ammazzati vittoria 4-1 contro l'ovestem vittoria ottima fondamentale arrivata praticamente senza nessun tipo di discussione se non qualcosa all'inizio e partita non semplicissima specialmente nel primo tempo loro hanno giocato meglio di quello che probabilmente si credeva tutti Arnautovic in grandissima forma tirava da tutte le parti ha sfiorato l'ennesimo cioè se faceva il gol e che poi invece finì sulla traversa sarebbe stato l'ennesimo gol subito al Liverpool quest'anno che andava a concorrere per Puskal Saward a fine anno praticamente concorrono cinque gol i cinque gol più belli del mondo se si continua così sono tutte cinque contro il Liverpool perché c'è quello di Wanyama del Tottenham e oggi sarebbe stato questo qui insomma per fortuna e Karius l'ha toccata e l'ha buttata sulla traversa non è stato gol e è stato l'unico squillo pericoloso dell'ovestem perché poi il gol è arrivato sul 3-0 in maniera abbastanza un piccolo addormentamento nostro l'unica nota stonata della partita è quello perché questa è una partita da 4-0 facile facile e invece abbiamo concesso uno stupidissimo gol una buca a centrocampo Van Dijk recupera Antonio che ovviamente era appena entrato anche quella è una costante matematica il Liverpool subisce soltanto i corpi belli del mondo e li subisce da chi è appena entrato contro il Tottenham sempre Wanyama era la prima palla che toccava oggi Antonio la prima palla che tocca fa gol comunque dicevo Van Dijk segue Antonio mette la gamba per bloccargli il tiro ma il tiro di Antonio è precisissimo passa precisamente sotto la gamba va verso l'angolino e schiva anche la mano Icarus naturalmente quando la palla deve entrare in porta nostra entra e fine fine della partita del West Ham e tutto il resto è stato un dominio totale del Liverpool 4-0 poteva essere anche più grosso il risultato abbiamo preso due pali uno allucinante di Manet praticamente a porta vuota altre occasioni buttate però tutto sommato specialmente quando abbiamo segnato il 2-0 la partita è finita lì perché poi arrivato subito il 3-0 poi si loro hanno calciato le distanze ma non ci credevano neanche loro hanno immediatamente ripiegato in difesa per evitare l'imbarcata nonostante il gol sapevano che la partita ormai era andata e l'unica cosa che poteva succedere era subire altri gol come di fatto che è successo è arrivato il 4-1 di Manet segnano tutte e tre i nostri del tridente gol abbastanza belli ottima partita di Chamberlain Chamberlain ha fatto una partita allucinante ovviamente sul gol di il terzo se non mi sbaglio che fa una cosa pazzesca in scala 2-3 recupera palla lo buttano in terra si rialza e la passa in mezzo ottima partita iniziata con difficoltà è finita liscissima abbiamo saputo anche addormentare i ritmi dopo il loro gol siamo orientati subito a un possesso di palla abbiamo addormentato i ritmi e quella per mancanza di regista o playmaker è la cosa che ci riesce peggio invece oggi ci sono riusciti bene abbiamo tenuto 10 minuti il pallone senza rischi e il West Ham è completamente calato fisicamente e psicologicamente 4-1 è stata una pura formalità vittoria importantissima infatti adesso siamo secondi ovviamente devono sempre giocare le altre l'unica che ci può superare sono i clandestini di Manchester se domani vincono col Chelsea c'è il Chelsea clandestini e se vince il Chelsea rimaniamo secondi da soli se pareggiano che il risultato che ci va meglio i clandestini ci raggiungono ma non so come sono messi con la differenza reti aspetta un attimo se pareggiano ci raggiungono a pari punti clandestini e a differenza reti noi siamo messi uno meglio quindi rimarremo secondi non più solitaria ma rimarremo secondi attualmente a differenza reti nostra è 33 e la loro 32 per la cronaca il Tottenham mercenava una facilina vabbè non boffa Crystal Palace Tottenham non credo la quotino neanche vincere al Tottenham 6-7 a 0 minimo la partita che dobbiamo sfruttare domani è il Chelsea clandestini perché un eventuale pareggio meglio il pareggio la vittoria del Chelsea ci lascerebbe secondi in solitaria ma il Chelsea si avvicinerebbe troppo sarebbero troppi da ridosso meglio un pareggio che si rimane secondi ma con un po' di distacco ed è la posizione classifica che più ci rende giustizia noi dopo il City che vabbè fa un altro campionato siamo ovviamente la squadra più forte del campionato siamo centomila anni luce avanti i clandestini l'Arsenal siamo tanto avanti al Chelsea e secondo me ora come ora siamo a quanto meno livello atletico superiore anche al Tottenham che la considero la terza squadra più forte del campionato posizione classifica che va mantenuta perché impossibilità da vincere il campionato comunque sia un secondo posto ci regalerebbe tanta fiducia anche per la prossima stagione ora è presto per parlare di posti capace se ne perde 3 di seguito o capace al City ne perde 10 di seguito non si vincere il campionato manca tutto il giorno di ritorno e non sappiamo nulla dico soltanto che per la prima volta in stagione abbiamo raggiunto il secondo posto ed è il posto che ci appartiene di diritto è il posto che più ci rappresenta non siamo a livello diversiti ma siamo ovviamente superiore a tutte le altre in alcuni casi anche parecchio superiore come ho detto clandestini o Arsene per il resto in realtà da dire dobbiamo assolutamente continuare così ora c'è il ritorno al Champions League che io sapete bene che non parlo mai più nelle partite però con un 5 a 0 fuori casa bisogna andare a giocare da Anfield se ne parla dopo Liverpool Porto se ne parla dopo Liverpool Porto detto questo vi saluto ci vediamo al prossimo video e sempre forza Liverpool ciao